Direi che possiamo cominciare, buonasera a tutti, benvenuti a Segnavia, ben ritrovati a questi orientamenti in un mondo che cambia, il ciclo di conferenze ideato e organizzato dalla fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, siamo giunti alla settima edizione e vi ricordo che le segnavie, come dice la tradizione, sono questi segnali lasciati dai viaggiatori per altri viaggiatori, per orientarsi appunto nel mondo che cambia, per affrontare le sfide una volta geografiche, adesso intellettuali, culturali, scientifiche, come vedremo questa sera. Di cosa parliamo questa sera? Questa sera parliamo di qualcosa che attrae e spaventa, purtroppo aggiungerei io, parliamo di matematica. Homo matematicus, i numeri della quotidianità. Quali sono le cifre della quotidianità? Ci siamo mai soffermati a pensare quanta matematica, quanta scientificità c'è nella nostra routine? Questa sera impareremo qualcosa in più, Segnavia ci darà i segnali, i paletti, ci aiuterà a intravedere questi segni, in questo caso particolarmente raffinati, puntuali, precisi, matematici, per interpretare in modo nuovo, o se non altro diverso, attuale, quello che è il mondo che cambia. Per molti la matematica, non so per voi, questa sera lo scopriremo, è una sorta di ostacolo, forse un mondo chiuso, riservato agli scienziati. Invece no, scopriremo che non è esattamente così, infatti quello di questa sera è uno di quegli appuntamenti da cui si esce cambiati, con un paio di lenti in più, o come piace dire a noi in tasca, dei segni, delle segnavie utili per interpretare quello che è il mondo che cambia. Quello che questa sera cercheremo di spiegarvi, non lo farò io chiaramente, lo farà qualcuno di ben più titolato di me, anzi sono ben due persone, quello che cercheremo di spiegarvi è che invece la matematica fa parte della nostra vita, della nostra dimensione quotidiana, che ci piaccia o meno, senza che ce ne rendiamo conto, in realtà tutte le strategie, tutti i piccoli calcoli che forse non ci rendiamo conto di fare ogni giorno, sono ben presenti e sono, perché no, qualcosa di scientifico che permea la nostra vita senza che forse ce ne rendiamo conto. Pensate che alcuni pensatori, alcuni filosofi, alcuni sociologi parlano addirittura di etnomatematica, non so se ne parleremo questa sera, ma insomma c'è chi sostiene che esista una matematica del camionista, una matematica dello studente, una matematica, perché no, insomma dell'artigiano, insomma, ognuno ha le sue piccole tecniche, le sue piccole matematiche che applica ogni giorno. Questo incontro, come potete vedere insomma attorno a voi, è stato davvero molta curiosità, quindi non vi sto a tediare con ulteriori introduzioni che non hanno motivo di esistere. L'unica cosa ci piace raccontarvi che non solo questa sera c'è un tutto esaurito in questa sala, ma anche domani quando l'incontro sarà ripetuto a Rovigo, di fronte a una sala piena di studenti abbiamo fatto già tutto esaurito. Quindi questo significa che evidentemente la scienza, la matematica, quello che è insomma al di fuori di quello che pensiamo sia la nostra quotidianità, in realtà incuriosisce moltissimo. Prima di iniziare l'incontro è giusto insomma che vi dia il benvenuto un po' il padrone di casa assieme a me questa sera, che è il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Antonio Finotti. Un cavaliere, un signore giustamente, ci mancherebbe altro. Grazie, buonasera a tutti, il più cordiale benvenuto a nome della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Come la nostra collaboratrice ha già anticipato, si riprende quel percorso di segnavie dopo la parentesi estiva. Si parlerà appunto, come è già stato detto, di un tema intrigante per alcuni e forse ostico per altri, ma del quale in ogni caso nessuno può prescindere. Che ci piaccia o meno, infatti la matematica gioca un ruolo fondamentale nella vita di tutti noi, anche se probabilmente spesso non ce ne rendiamo conto. La maggior parte delle persone associa la parola matematica al percorso scolastico e il pensiero corre a formule e teoremi spesso difficili da comprendere. La conferenza di stasera ha l'obiettivo di contribuire a riavvicinarci ai numeri, dimostrandoci come siano alla base delle nostre scelte e delle nostre azioni e dunque influenzare in modo determinante la nostra esistenza. Sarà un viaggio che faremo in compagnia del professor Giuseppe Mingione, professore ordinario di analisi matematica all'Università di Parma e tra i primi 20 matematici al mondo per produzione di pubblicazioni ad alto impatto. Grazie davvero professor Mingione per aver accolto il nostro invito ed essere qui con noi stasera, così come per aver accettato, è già stato fatto presente prima, di tenere una conferenza su questi temi domani a Rovigo per gli studenti delle scuole superiori della provincia, che come è già stato anticipato hanno risposto con estrema convinzione al punto che abbiamo il tutto esaurito. Voglio ricordare che questa formula di incontro riservato alle scuole in aggiunta alla conferenza pubblica aperta a tutti, che consegna via e abbiamo già sperimentato con successo in passato, nella convinzione dell'importanza di offrire agli studenti occasioni stimolanti di formazione e confronto pensate specificatamente per loro. E il fatto che per domani appunto si sia registrato il tutto esaurito ci rende particolarmente felici e ci conferma per l'ennesima volta la particolare attenzione che il mondo della scuola dedica a queste iniziative del nostro ente. Prima di concludere desidero inoltre esprimere un ringraziamento alla giornalista dottoressa Laura Margottini che interverrà questa sera, intratterrà questa sera il nostro ospite e contribuirà a stimolarlo con le sue domande che certamente saranno estremamente provocatorie. Grazie infine a tutti voi per aver aderito così numerosi al nostro invito e quindi vi faccio i migliori auguri di buon ascolto e buona serata. Grazie nuovamente. Grazie Presidente, due parole davvero due per presentare i nostri protagonisti di questa sera come sapete quando si cerca insomma di illustrare un breve curriculum dei personaggi al caso di dirlo che attraversano il palco di segna via è sempre difficile fare un riassunto quindi prendetelo per quello che è. Il professor Giuseppe Mingione non so se me ne vorrà ma insomma è in assoluto un uomo dei record possiamo definirlo così nonostante la giovanità è nato a Caserta 44 anni fa più o meno professore ordinario come diceva il presidente di analisi matematica dell'università di Parma attualmente lo è ancora quando lo è diventato quindi più o meno nove anni fa è stato uno dei pochissimi a suo tempo ne avevano contatti nove di ordinari al di sotto dei 35 anni rimane comunque anche attualmente uno dei professori più giovani della storia accademica italiana studiato all'università di Napoli dove ha conseguito ovviamente come potete immaginare una laurea e un dottorato di ricerca in matematica il suo nome compare nella lista degli highly cited researchers che sono i ricercatori più citati primi 20 matematici del mondo anche per interesse per qualità delle ricerche che svolgono di cosa si occupa il professor Mingione lui ce lo spiegherà meglio cerco di farvelo capire io così vi prendete subito paura la sua specialità sono le equazioni differenziali alle derivate parziali sono calcoli complicati che si utilizzano per descrivere molti modelli della fisica lui probabilmente correggerà questa mia definizione in modo più preciso di riconoscimenti ne ha ricevuti davvero molti prestigiosi ne citiamo solo uno se vorrà ne citerà lui altri per rendere stringato il più possibile questa presentazione che è il premio caccioppoli nel 2010 cioè assegnato dall'unione matematica italiana che dire la definizione di genio nel terzo millennio sta stretta chiunque purtroppo perché incredibilmente imbarazza però di certo siamo di fronte questo possiamo dirlo ad uno scienziato dalle doti non comuni ad intervistarlo quindi a stimolare quella che sarà ci piace dire insomma una chiacchierata anche assieme a voi dopo perché come sapete segna via da spazio alle domande sarà la dottoressa Laura Margottini giornalista donna ci piace dirlo per andare contro proprio quei pregiudizi questa sera quell'aura di misoginia che ogni tanto per ignoranza ha torto insomma spesso si associa alla scienza la dottoressa Margottini si è laureata anche lei matematica con il massimo dei voti si è specializzata poi in giornalismo scientifico non in Italia ma all'estero a Londra si è formata alla BBC attualmente collabora con la rivista internazionale Science Magazine il fatto quotidiano ha collaborato con New Scientist venerdì di Repubblica l'Espresso insomma le maggiori testate scientifiche e non italiane e all'estero nel 2009 lo citiamo ha vinto il premio giornalistico nazionale per giornalisti scientifici e collabora anche con la redazione del sito del gruppo di ricerca in fisica di sistemi complessi presso il CNR dell'università La Sapienza quindi insomma un curriculum di tutto rispetto anche per la dottoressa Margottini l'incontro sta per cominciare ci rimane solo da dire un'unica cosa vi ricordo che segna vie è interattivo perché i segnali che vi lasciamo vogliono essere attuali, presenti in questo mondo e anche in quello digitale quindi vi ricordo che chi vuole commentare, condividere quello che stiamo per vivere tra pochissimo anche adesso c'è la pagina Facebook di segna vie e anche su Twitter l'hashtag è hashtag segna vie vi ricordo inoltre che l'incontro sarà registrato e che potrete vedere potrete rivederlo interamente la prossima settimana sul sito di segna vie che è molto semplice www.segnavie.it lasciamo quindi lo spazio al professor Mingione e alla dottoressa Margottini prima al professor Mingione però buon incontro ok allora grazie per avermi invitato e grazie per essere venuti numerosi mi fa sempre piacere fare delle conferenze divulgative che faccio pochissime ogni anno le faccio circa una ventina però sono tutte molto specialistiche fare conferenze divulgative in matematica non è facile perché la matematica è una cosa che è difficilmente divulgabile come vedete non è facile ok ok non è facile perché? perché la matematica è una disciplina altamente tecnica e esige prima di mostrare le sue idee più profonde della propria bellezza eccetera tutta una serie di cose tutto un armamentario tecnico che uno deve necessariamente studiare cioè usa un linguaggio altamente astratto e formalizzato che uno o lo studia oppure non c'è niente da fare se uno vuole capire un attimo quali sono le difficoltà della matematica pensate a quando ascoltate un brano musicale quando ascoltate un brano musicale l'informazione può passare in due modi a un pubblico diciamo generico può passare in modo più naturale uno sente per esempio la quinta di Beethoven e gli piace e la cosa finisce qui c'è anche un altro modo di passare se volete ancora molto più preciso l'informazione della quinta di Beethoven è leggersi lo spartito naturalmente lo spartito esige che voi sappiate leggere la musica cioè abbiate studiato e abbiate fatto uno sforzo e questo lo fanno di solito i musicisti il problema è che la matematica è un po' come la musica però senza suoni solo con gli spartiti dal punto di vista della musica è facile abbiare voi comprate il cd questa non è una pubblicità che ho preso uno a caso e l'ascoltate però per la matematica purtroppo questo analogo non c'è e questa è una delle ragioni per cui la matematica diventa così difficile e spiacevole alcune volte perché è molto complicata e prima di mostrarsi come dire per quello che è esige molta fatica e spesso anche un po' di noia immaginate di dover imparare a suonare il pianoforte prima di arrivare a suonare un preludio di Bach oppure un notturno di Chopin dovete fare molti esercizi di titeggiatura e questi possono essere spiacevoli sia a sentirli che a farli infatti se guardate per esempio le equazioni di Navier-Stokes che queste sono equazioni di orari parziali quelle di cui si parlava prima e probabilmente la maggior parte delle persone non ci capisce niente in quello che c'è scritto lì allora se fate il paragone tra queste equazioni e questo spartito e non sapete leggere né le equazioni né la musica come vedete l'effetto è lo stesso quindi questo è uno dei motivi per cui la matematica è difficile da divulgare ed è come dire molto antipatica alla maggior parte che le persone e questo è anche uno dei motivi per cui tutti i tentativi di divulgazione che voi vedete fatti in giro in televisioni, conferenze, festival della scienza eccetera sono dei quasi falsi esercizi di divulgazione cioè non si parla mai di matematica ma se ci fate caso si parla di racconti attorno alla matematica si fa un sacco di aneddotica esce il film sul genio indiano della matematica non ci sarà nulla di vera matematica spiegato lì ci saranno un sacco di storie ma queste storie non avranno a che fare con la matematica avranno a che fare con i matematici allora io oggi tenterò in modo disperato di raccontare pure un po' di matematica cosa che non si fa nei veri tentativi di divulgazione in realtà la matematica è un po' scorretto dire che non ha un analogo perché queste equazioni sono equazioni di Navier-Stokes questi sono Navier-Stokes che descrivono il modo dei fluidi adesso non siamo qui a formalizzarci eccessivamente su quello che significa e quindi una controparte in natura ce l'hanno perché descrivono il modo dei fluidi e naturalmente però mentre la musica è una creazione dell'uomo i fluidi sono lì in natura e questo ci apre la porta a capire anche a che cosa serva la matematica la matematica serve anche a descrivere e soprattutto a descrivere la realtà in modo preciso oltre le parole quindi ci fornisce un linguaggio descrittivo enormemente più potente enormemente più potente perché descrive in modo preciso in modo non ambiguo ogni parola deve essere definitivamente specificata nel suo significato e quindi sarà totale si guadagna quindi in precisione ma si perde tanto in fatica anche in piacevolezza alcune volte e tra l'altro queste equazioni sono uno dei problemi se uno poi può sapere da dove vengono sono uno dei problemi più aperti della matematica contemporanea c'è questo Clay Institute che ha fornito una lista di sette problemi da un milione di dollari chi li risolve vince un milione di dollari uno di questi è appunto la risoluzione delle equazioni di Navier-Stokes nel senso che uno vuole sapere se queste equazioni sono univocamente risolvibili nel tempo e personalmente a me non piace tanto l'idea di mettere dei premi per dei singoli problemi perché credo che anche dal punto di vista storico i problemi si risolvano quando poi un'intera comunità riesce a dare contributi a fare un avanzamento poi arriva uno che mette tutto insieme quindi il fatto di concentrarsi su singoli problemi può far perdere un po' di energia però va di moda, piace dirlo e quindi si fanno queste cose tra parentesi si vince un milione di dollari ma questo è secondo me di gran lunga il modo più difficile per farsi un milione di dollari cioè in qualsiasi modo voi possiate pensare per fare un milione di dollari questo sarà più facile che questo quindi anche da questo punto di vista è più una cosa simbolica allora vi dicevo che la matematica è difficilmente divulgabile e infatti se voi prendete i libri di divulgazione che vanno di moda adesso questi ne sono due uno sull'ultimo teorema di Fermat e uno sulla concettura di Riemann di cui parliamo ora vedrete che non c'è tanta matematica in questi libri c'è più aneddotica sulla matematica allora partiamo da questi due libri e vediamo due tipici problemi di matematica che sembrano un po' avulsi dalla realtà il primo è il famoso ultimo teorema di Fermat io l'ho sempre pensato come l'ultima burla di Fermat nel senso che Fermat scrisse che lui aveva la dimostrazione di questo semplice fatto semplice a dirsi ma non a dimostrarsi su un libro però siccome non c'era troppo spazio dice io ce l'ho però qui non ho spazio per riportarla come corollario per vari secoli tutti i migliori matematici hanno tentato di dimostrare questo fatto cioè che questa semplice equazione non ha soluzioni strettamente intere positive perenne da 3, 4, 5 eccetera perenne uguale a 2 ci sono come vedete la famosa terna pitagorica e vabbè questo è un enunciato apparentemente semplice che ha per tre secoli e mezzo tenuto in scacco tutti i migliori matematici esistenti ci si sono accaniti allora finché poi è stato risolto nel 1994 da Andrew Weiss che è questo matematico inglese che vedete qui è stato un grande evento in Gran Bretagna è stato fatto cavaliere, è stato santificato gli hanno addirittura intitolato l'istituto in cui insegna cosa che non è molto piacevole io vengo da Napoli non sono un napoletano tipico però anche a uno che non è tipicamente napoletano per scaramanzia non mi piacerebbe vedere il mio nome nell'istituto in cui insegno però tante che stanno aspettando quasi che muoia gli hanno fatto anche dei ritratti questo è Andrew Weiss naturalmente anche in Gran Bretagna quando ha fatto questo teorema hanno detto ha risolto un problema che Gauss, Eulero, Riemann i migliori non hanno saputo fare in realtà è scorretto lui Gauss ci ha provato all'inizio dell'Ottocento lui ci è arrivato alla fine del Novecento diciamo che in mezzo ci sono 170 anni di strumenti matematici che Gauss non aveva quindi anche qui bisogna andarci piano però bisogna fare pubblicità anche nella comunità scientifica questo teorema, uno dice ma questo teorema serve a qualcosa così come è rinunciato non serve a nulla in realtà per tentare di risolverlo sono state costruite tutta una serie di teorie matematiche che hanno portato poi a degli sviluppi che si sono rivelati utili nella vita pratica questa è un po' la cosa inaspettata della matematica e uno dei messaggi che vorrei dare oggi cioè non dobbiamo mai fidarci di ciò che è apparentemente inutile perché le maggiori applicazioni le maggiori scoperte arrivano proprio da quelle cose che ci sembrano inutili per esempio questo ha portato a tutta una teoria dei numeri primi degli anelli e a tutte varie parti della geometria algebrica che oggi sono assolutamente essenziali per per esempio trasmettere i file in modo sicuro quando voi mandate per stabilire una connessione sicura in internet voi state usando degli algoritmi di codifica che usano delle delicatissime proprietà dei numeri primi che vengono da queste teorie quindi uno deve stare attentissimo a dire questo non serve, questo non è nella realtà perché poi diciamo questo è un grande segno di arroganza perché uno pretende di conoscere la realtà da quello che vede invece la realtà è molto più complessa di quello che può sembrare come diceva Shakespeare c'è più tra cielo e terra di quello che immaginano le fantasie dei filosofi e lì per filosofi c'era anche scienziato perché in quell'epoca non si faceva molta distinzione sempre sui numeri primi l'altro teorema era la funzione Z di Riemann che è definita da questa somma infinita immaginate di poter sommare infiniti numeri, si fa immaginate di poter elevare 3 a qualsiasi numero anche complesso, si può fare avete una funzione che è definita su numeri complessi i numeri complessi sono quelli che hanno la parte immaginaria la famosa radice di meno 1 adesso guardate come si enuncia questo che viene ritenuto il maggior problema aperto della matematica contemporanea e lasciate perdere, questo è il piano complesso tutti gli zeri non banali, cioè con parte reale tra 0 e 1 sono sulla retta di equazione x uguale a un mezzo se vedete così questo teorema uno dice ma chi se ne frega in realtà chi se ne frega poi scopre che se uno riesce a dimostrare questa cosa si aprono intere teorie e si aprono intere vaste teorie di applicazioni che si fanno nella realtà quindi uno deve stare sempre attento per esempio già Eulero aveva dimostrato questa straordinaria proprietà se voi prendete questa somma infinita questa somma infinita è uguale a questo prodotto infinito dove ci sono tutti i numeri primi questa identità permette di stabilire delle proprietà strutturali sui numeri primi che sono poi quelle che danno origine a certi che giocano un ruolo molto importante in certi algoritmi di trasmissione sicura che erano quelli di cui parlavo prima quindi uno dei messaggi che dovrebbe venire da questa conferenza è che anche ciò che sembra apparentemente inutile in matematica ce n'è tanto in realtà è fondamentale ciò che ci sembra apparentemente inutile è soltanto perché noi siamo abbastanza miopi da non vedere quello che c'è oltre e d'altra parte se uno vuole scoprire cose molto interessanti e non banali deve fare fatica quindi è più probabile che sia utile quello che non appare immediatamente tale che il viceversa di avanti come si stabiliscono i matematici come fanno i matematici a capire se una cosa è utile o meno utilizzano un criterio che è un criterio estetico questo qui è Godfrey Harold Hardy che è uno dei più famosi matematici inglesi del secolo scorso era lo scopritore del genere indiano che appare in quel film nelle sale adesso e dice che sostanzialmente lui di tutte le applicazioni di segnefrega l'unica cosa che guarda è la bellezza e l'estetica che le teorie matematiche devono avere insieme questa estetica può essere capita e concepita solo se uno in realtà la matematica l'ha studiata e questa è una delle cose che tipicamente le persone non capiscono nel senso che a scuola appunto si rimane un po' gli esercizi di diteggiatura ai dettagli cioè si insegnano tanti piccoli dettagli immaginate un quadro di Rembrandt un quadro di Rembrandt è enorme e pienissimo di dettagli però se uno si focalizza sul singolo dettaglio poi non riesce a vedere la bellezza del quadro però prima di arrivare alla bellezza del quadro uno deve studiare tutti i dettagli questo è uno dei motivi per cui in matematica non si riesce a cogliere questo senso estetico che è molto legato al contenuto astratto però quello che di solito fanno i matematici è che hanno una loro estetica un po' interna alla disciplina che gli permette di stabilire quello che è interessante o meno dal punto di vista matematico tipicamente quello che succede è che poi quello che è bello siccome quello che è bello si rivela anche utile molto tempo dopo il motivo per cui si rivela utile è che come vedremo ora storicamente la maggior parte delle teorie matematiche partono dall'osservazione e dall'esigenza di risolvere problemi fisici quindi partono da una percezione sensoriale dei fenomeni della natura adesso la natura spesso si dispone in modi armoniosi a una sua estetica che viene codificata dai problemi matematici e le teorie matematiche di questo inizio se lo ricordano anche se poi si sviluppano apparentemente nel loro binario e adesso io provo a farvi vedere un esempio di questa interazione tra teorie astratte e applicazioni che c'entra Lucio Fontana? il motivo per cui qui c'è Lucio Fontana è che adesso io vi devo far vedere qualche formula queste formule se non avete fatto qualche corso all'università probabilmente non siete in grado di leggerle, di capirle e qualchi magari le ha fatte, ha fatto bene il liceo qualcosa può capire però qui abbiamo due strade o facciamo tante chiacchiere e aneddotica sulla matematica o proviamo a vedere un po' di matematica di solito molti divulgatori fanno un po' di chiacchiere io invece provo quest'altra strada se va bene va bene se no se avete i pomodori potete tirare perché vi faccio vedere Lucio Fontana? se non capite le formule vedetele come una specie di ritratto come arte astratta come una cosa che sta a metà tra l'arte astratta di Fontana e la spesso odiosa arte concettuale l'arte concettuale è quella in cui l'estetica viene accantonata per dar luogo al messaggio molto utile agli artisti che non sanno disegnare molto utile però insomma c'è l'arte astratta e l'arte concettuale vedete le formule come qualcosa a metà tra l'arte astratta e l'arte concettuale questi sono esempi di arte concettuale qui c'è un esempio molto interessante perché è un quadro che parla di se stesso un oggetto che si è definito da solo è lo stesso oggetto che parla di se stesso e quindi ha a che fare un po' con le famose frasi autoreferenti che poi generano i famosi paradossi di Russell insomma prendetele per quello che sono se le capite bene questo è un famoso artista italiano questo è un altro famoso artista retroamericano questa è Lisa Launila è un'artista finlandese la riporto qui per curiosità perché è la moglie di uno dei miei collaboratori più stretti così per affezione emotiva infatti eccomi qui nell'ufficio del mio collaboratore che ha un'opera della moglie nel suo ufficio di fatto poi anche l'arte usa assai la matematica per esempio Mondrian Escher e anche appunto cose autoreferenti insomma l'idea è che adesso facciamo vedere un po' di formule un po' di fatti tentiamo di dare qualche esempio non vi spaventate prendetele per quello che sono se non le capite leggetele come un po' una cosa che sta a metà tra l'arte astratta e l'arte concettuale di fatto quest'idea che io poi ho sempre avuto facciamo vedere le formule e poi almeno la gente si familiarizza perché poi è chiaro se uno comincia a studiare un po' di matematica e non ha visto neanche i segni si spaventa se invece sin da piccolo ha visto dei segni magari non si spaventa questa cosa è stata fatta nella metropolitana di Parigi recentemente nella metropolitana di Parigi al posto di ritratti di bei modelli e modelle appaiono queste formule non so quanto la gente capisca la Francia è un paese molto scientificamente più avanzato dell'Italia c'è un'educazione di base più avanzata scientificamente però insomma le formule sono formule la maggior parte delle persone non le capisce però credo che l'effetto sia stato quello un po' di mostrarle come se fossero dipinti di arte astratta e poi di familiarizzare un po' le persone sia con le formule che con quello che volevano dire in questo caso credo che siano formule legate a modelli del global warming riscaldamento globale non lo so però l'idea quello che se ne vede è quello che succede a Parigi allora l'idea che ora vorrei far vedere è della serie perché le cose apparentemente inutili servono e perché la matematica vi entra nella vita contemporanea allora quello che vorrei far vedere è uno schema classico di formazione di teorie matematiche che vengono da problemi che ci sono nella realtà allora la realtà che voi osservate grazie all'esperienza sensoriale si manifesta con fenomeni con esigenza di trattare questi fenomeni dal punto di vista tecnologico e a un certo punto siccome voi dovete essere assolutamente precisi nel trattare questi fenomeni costruite delle teorie matematiche per modellarli quindi fate queste regole di corrispondenza quindi costruite un piano parallelo una specie di mondo parallelo mondo parallelo puramente matematico e di teorie matematiche astratte quindi che hanno senso al loro interno e che a quel punto che però si ispirano per strutturazione interna a fenomeni a fenomeni fisici e quindi costruite questo 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 mondo matematico parallelo nel quale andate a operare indipendentemente dalla realtà che dovete che dovete analizzare adesso quello che succede è che quando siete saliti nel vostro mondo parallelo a molti il mondo parallelo piace non solo quello matematico molte persone amano vivere in un mondo parallelo è una via d'uscita accettabile alcune volte anche quella matematica lo è e quindi le teorie matematiche si sviluppano come dire partono un po' per la tangente si sviluppano in modi apparentemente astratti però spesso ritornano nella realtà in punti diversi dai quali erano partiti naturalmente tutto questo bisogna mostrarlo con delicatezza bisogna essere delicati quando uno fa questa regola di traduzione cioè passa dalla realtà al modello matematico e si muove nel mondo matematico dimostra rigorosamente delle cose che sono vere ma nel mondo parallelo cioè che saranno coerenti nella logica interna della matematica che queste cose poi siano vere anche nel mondo reale cioè che a queste cose ci sia un corrispettivo reale poi è da dimostrare con la realtà sperimentale questo lo dico perché molte volte specialmente nelle scienze sociali si fanno dei modelli matematici forse molto troppo semplificati per le cose che uno vuole trattare si dimostrano dei teoremi di matematica e poi si dice ah guarda nella realtà succede questo e nella realtà succede questo e devi andare a verificare cioè quello può essere un suggerimento questa è una cosa alla quale è una cosa alla quale bisogna essere molto attenti perché spesso la gente può essere come dire ipnotizzata dal principio di autorità che viene da una scienza prestigiosa ma oscura allora qualsiasi cosa che vi dice uno che vive un pochino in questo mondo appare vera invece vi può raccontare una cretinata qualsiasi soltanto che ve la racconta con un linguaggio così sofisticato che vi ipnotizza o meglio vi intimorisce quindi questo deve essere sempre chiaro e questo è un po' però la matematica in realtà funziona questo è quello che ha portato a parlare della irragionevolezza del successo della matematica the unreasonable effectiveness of mathematics questo era un fisico e adesso vi faccio vedere questo 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 esempio di interazione di cui parlavo e questo è quello con cui vorrei concludere allora qui facciamo qui proprio smettiamo l'aneddotica sulla matematica e qui vi faccio un esempio di interazione cioè di passaggio e di costruzione dal mondo reale a quello parallelo e ritorno e vedremo che si parte di un punto e si ritorna in un altro punto o meglio si ritorna in tanti altri punti partiamo dall'ottocento dove dobbiamo studiare il problema della diffusione del calore voi prendete un oggetto riscaldato lo appoggiate ad una superficie voi sapete che a un certo punto il calore tende a espandersi l'oggetto si raffredda e volete descrivere questo fenomeno da qui esce tutto un modello matematico che si chiama una serie di Fourier e queste serie di Fourier a questo punto per il fatto stesso di essere come dire create in un mondo matematico danno origine a nuove teorie matematiche queste nuove teorie si dipangano lungo sentieri che dimenticano apparentemente completamente il punto di partenza reale e poi ritornano nella realtà ma ritornano in vari punti quindi questa è una delle cose importanti che uno deve sempre tenere a mente se volete avere il big picture non dovete pensare che ogni singolo dettaglio debba essere immediatamente utilizzabile ci sono dettagli il cui significato si capisce solo in un contesto più ampio allora questa cosa orribile che voi vedete è la famosa equazione del calore questo è il famoso laplaciano questo è il coefficiente di diffusività di un materiale questo è un tipico esempio del U è la temperatura di un corpo che si evolve nel tempo e questa è la diffusione se l'avete vista all'università bene sennò fidatevi almeno su queste cose oggi non voglio barare insomma il problema era di trovare delle soluzioni di questa equazione questo è un problema ben noto classico eccetera a questo punto un matematico di nome Fourier inventa un metodo per risolverlo almeno in domini semplici come quadrati rettangoli eccetera che si chiama separazione delle variabili per chi l'ha fatto questo metodo lo porta a immaginare che ogni funzione e la funzione è un'equazione derivata parziale è un'equazione in cui l'incognita non è un numero ma è una funzione stessa ogni funzione si possa esprimere come una somma infinita di funzioni elementari voi avete una funzione difficilissima le funzioni che conoscete immaginate che sono solo segni e cosegni con frequenze sempre più alte allora la funzione può essere espressa con una somma infinita di segni e cosegni con frequenze sempre più elevate allora Fourier in realtà intuisce che la formula è vera se la dimostra in qualche modo fa un sacco di errori però ogni volta che una teoria nasce nasce in mezzo agli errori perché se è una cosa innovativa non è che può nascere così perfettamente immediatamente nasce in una nebulosa che poi viene corretta tutte le teorie scientifiche nascono così anche le teorie la teoria di Darwin infatti un modo abbastanza ingenuo per attaccare le teorie scientifiche è criticare il loro stato epistemologico molto vago di quando nascono se uno deve fare una cosa nuova all'inizio qualche errore lo deve fare e va bene infatti come sempre accade a questo punto abbiamo lasciato il problema di partenza e il fatto di l'esigenza di rendere rigorose le intuizioni di furie porta allo sviluppo di altre teorie matematiche queste teorie matematiche questo è quello che dicevo cioè una teoria ha degli errori ma spesso sbagliando si impara gli errori sono furieri di altri sviluppi questo è un classico l'importante è far funzionare il cervello e infatti in particolare si rivisita il concetto stesso di funzione qua siamo nell'ottocento si rivisita l'intero apparato teorico della matematica e questo viene fatto da matematici tipo Cantor si trovano nuove definizioni di concetti di infinito insiemi patologici tra i cui anche quelli che si chiamano frattaliche e intervengono poi nella natura in altro modo quindi qui è una prima dipanazione che ci porta un altro passaggio nella realtà vabbè che cosa diceva Fourier diceva che tutte le funzioni si possono ottenere come somme di funzioni di segni e coseni che hanno questa forma queste sono funzioni belline perché come dire sono molto regolari cambia solo la frequenza quindi la frequenza è più alta e qui si apprende più bassa e questo è quello che diceva Fourier questa è una funzione qualsiasi che si ottiene come somma di due funzioni del tipo precedente quindi questa è l'idea queste cose e questa è un'altra idea questa è una funzione più complicata che si ottiene come somma di tutte queste sinusoidie come vedete quelle sopra sono semplici quella di sotto non è più così semplice poi più una ne mette più si complica quella che c'è di sotto ovviamente fino a raggiungere tantissime funzioni che quelle che i maghi maghi ci sono le funzioni a quadrata integrabili L2 insomma la metafora è chiara i segni e cosegni a frequenza variabile sono i mattoncini dell'ego i mattoncini sono cose semplici messi insieme possono fare cose più complicate questa è per esempio una riproduzione dell'ego della morte nera di Star Wars e non vi spaventate a questo punto voi siete partiti dal calore e arrivate a qualcos'altro per esempio un segnale musicale quando sentite una nota che cosa state sentendo perché la stessa nota è da origini a suoni a timbriche diverse se fatta da strumenti diversi la spiegazione è che la nota viene definita dalla frequenza ma ogni strumento quando riproduce una nota emette quella frequenza e tutte le frequenze multiple sostanzialmente le frequenze multiple sono queste e questa è la modulazione delle frequenze multiple se voi se questa è diciamo la frequenza della nota tutte queste due sono due funzioni periodiche che hanno la stessa frequenza vedete però sono diverse perché questi coefficienti cambiano cioè avete un modo diverso di modulare le cose una volta che avete capito questo concetto questi per esempio quindi a che cosa si lega il timbro e il suono di uno strumento si lega esattamente a questi coefficienti i periodi sono sempre gli stessi quindi la nota è sempre la stessa però il timbro è diverso e se variate i coefficienti varia lo strumento questa è la distribuzione di un flauto questa è di un oboe questa è di un clarinetto questa è di un corno questa è di una chitarra e questa è di un piano il risultato è che alla fine ci potete fare il sintetizzatore perché perché se voi definite il timbro di uno strumento come coefficienti uno si ricorda solo dei coefficienti e ricostruisce in parte approssimando il suono prendendo i coefficienti naturalmente siccome i coefficienti sono infiniti non potete metterli tutti noi possiamo trattare molti numeri ma non infiniti numeri quindi ne potete mettere un certo numero più coefficienti siete in grado di riprodurre migliore sarà il vostro sintetizzatore più vicino si avvicinerà allo strumento originale lo strumento originale non lo beccherete mai perché dovreste riprodurre tutti gli infiniti coefficienti ma potete avvicinarvi con un grado ragionevole di precisione questo è un esempio di come siamo partiti dal calore siamo per esempio arrivati a un sintetizzatore naturalmente tutto questo si può fare purché voi abbiate sviluppato molte teorie matematiche che vi permettano poi di fare queste manipolazioni da questo punto di vista la matematica è un linguaggio che dovete svilupparlo e per svilupparlo dovete svilupparlo tutto non potete pensare di sviluppare solo quelle parti che servono perché voi stessi non sapete quali servono questo è un modo dei grandi equivoci io voglio sviluppare quella parte della scienza o quella parte della matematica perché quella mi serve tu pensi che sia quella che ti serve magari quella che ti serve sta da un'altra parte e tu non lo sai questo è un tipico esempio poi dalle serie di Fourier per esempio si passa alle trasformate di Fourier leggetevi queste formule sono una versione delle serie di Fourier nel continuo e vengono da una disciplina che si chiama analisi armonica che cosa ci fate per esempio progettazione di circuiti spettografia cristallografia trasmissione dei segnali manipolazione delle immagini perché ci fate tutte queste cose perché in realtà in matematica quello che conta per stabilire le strutture matematiche è la relazione che si stabilisce tra degli oggetti fenomeni diversi possono essere tradotti nella stessa equazione matematica e quindi quando uno sa trattare quell'equazione tratta tutti quei fenomeni contemporaneamente questo è un classico della matematica e la matematica ha questo potere un po' sintetizzante siccome studia le relazioni che si danno tra gli oggetti le stesse relazioni le stesse strutture di relazioni possono intercorrere in vari aspetti diversi che è la realtà quindi una volta che avete capito come trattare un fenomeno poi ne trattate fenomeni completamente diversi in cui scoprite che le relazioni tra gli oggetti si sono messe nelle stesse cose dalle trasformate di Fourier si fa un'altra cosa che si chiama la trasformata di Radon inizio nel novecento la trasformata di Radon è quella cosa che vi consente di fare la TAC la tomografia assiale computerizzata questa è un'altra applicazione inaspettata ed è una cosa che salva molte vite perché? perché prima di fare la TAC per capire uno che aveva uno doveva andare in sala operatoria farsi aprire e poi si vedeva ora oggi si fa la TAC e si risparmia l'interventino come si fa la TAC? la TAC si fa così voi sparate dei raggi X questo è l'oggetto che volete analizzare sparate dei raggi X quindi i raggi X partono da qui da dove li sparate e poi li raccogliete qui naturalmente quando passano l'oggetto alcuni raggi X vengono fermati alcune particelle e naturalmente se e quindi voi avete quello che sapete dove sapete quello che sparate sapete quello che ricevete e su ogni uretta sapete quanto avete perso quanto avete perso dipende da quanto c'è nel corpo che state analizzando quindi ricostruire l'immagine del corpo da quanto avete perso si fa con la famosa trasformata di Radon è una cosa che è esattamente così voi sparate qui prendete qui e se lo fate su tutte le possibili rette questo vi permette di ricostruire l'immagine la trasformata di Radon è una cosa che dipende dalle rette e quindi dovete fare un integrale su tutte le possibili linee un integrale di linea ma dimenticatevi di questa cosa voi sapete quanto da dove partite sapete quanto ricevete e analizzando tutte le rette questo è il motivo per cui quando fate l'attac il macchinario gira spara in tutte le possibili direzioni voi dovete avere tutte le possibili sezioni questo è il motivo per cui gira quel coso lì con la trasformata di Radon riuscite a fare questa cosa quindi dal calore siamo passati all'analisi armonica e ritorniamo con l'attac quindi siamo siamo passati siamo partiti da un fenomeno da una situazione siamo arrivati in una situazione completamente diversa un po' come in quei film di fantascienza quando si fanno gli agi nel tempo uno parte e poi ritorna in un altro posto nel tempo immaginatevi la stessa cosa e queste sono esattamente quello che fate guardate quanto è precisa questa è l'immagine di partenza questa è la trasformata di Radon vedete è più scura qui perché c'è più materiale qui e quindi una retta diventa più da origine una cosa che è più scura qui e da qui potete tornare indietro ricostruendo un'immagine che è quasi uguale a questa qui naturalmente questo è molto difficile farlo perché dovete non serve solo la trasformata di Radon servono anche metodi numerici di approssimazione serve conoscere il problema è mal posto nel senso che è vero che voi dovete analizzare per invertire la trasformata di Radon dovete analizzare tutte le rette ma tutte le rette non è possibile potete analizzarne solo alcune e quindi avete un problema inverso cioè un problema che dovete risolvere quando c'è una mancanza di un certo numero di informazioni questo si fa con altre cose e si fa con il metodo numerico e infine poi si può anche sviluppare altre cose per esempio prima abbiamo visto che ogni funzione si può esprimere come somma di sinusoidi che sono i mattoncini dell'ego e allora si ritorna poi ad una cosa che si chiamano spazi di Hilbert qui ritorniamo nella teoria quindi abbiamo fatto un primo viaggio nelle parti teoriche apparentemente inutili e torniamo sull'attacco e ritorniamo nelle parti teoriche e voi sapete bene che ogni vettore si può esprimere come combinazioni di vettori semplici questo è il teorema di Pitagora il teorema di Pitagora vi dice che un vettore con tre componenti lo fate come una combinazione dei vettori semplici questo non è molto difficile capirlo questi vettori semplici sono caratterizzati da tre componenti vedete 300 la prima la seconda e la terza adesso nulla ci vieta con uno sforzo di fantasia invece di mettere tre posizioni qui nulla ci vieta di metterne cinque quello che abbiamo è uno spazio a cinque dimensioni che è un po' irreale però matematicamente è reale potremmo fare cinque dimensioni 10 20 100 possiamo fare infinite dimensioni in realtà la trasformata di Fourier e la serie di Fourier danno origine a quella che si chiama analisi in spazi infinite dimensioni dove ogni vettore è uno di quei coseni o segni cioè i mattoncini ora sono infiniti infatti in quella serie in quella somma il numero di mattoncini era infinito e esattamente come avete infiniti i mattoncini potete pensare a spazi in cui avete infinite componenti e quindi avete infinite dimensioni servono servono in realtà servono assai perché con questi spazi questo è Hilbert sono i spazi Hilbert simpatico e infatti era Hilbert che diceva che la matematica o ve la prendete tutta insieme o niente quando uno sposa un uomo o una donna te lo prendi com'è non è che prendi solo i lati positivi e poi scarti gli altri va preso com'è quindi questo è un po' quello che diceva Hilbert l'idea era quella che ogni funzione può essere espressa come una somma infinita di funzioni di nuovo l'indice n 1, 2, 3, 4 infinito e queste hn sono i mattoncini elementari che stavolta sono solo segni o cosegni possono essere le funzioni più varie per esempio all'inizio del secolo la gente si divertiva a vedere quali potessero essere queste funzioni un matematico di nome R trovò queste funzioni funzioni a scalini che si localizzano e diventano sempre più strette più strette sono e più più diventano più avete precisione nel ricostruire le funzioni questo è R queste famose basi di R che venivano da uno studio prettamente teorico che cosa succede che con le basi di R ci fate le cosiddette wavelets le ondine le wavelets sono oggi lo strumento più utilizzato per esempio per trasferire file se voi volete trasferire file e grosse quantità di informazioni dovete usare le wavelets che sono una sorta per chi ha fatto ingegneria di serie di furie localizzate localizzano meglio la funzione in particolare modo invece di usare le sinusoidi che vedete in tutto il tempo sono sempre le stesse e si ripercuotono voi prendete solo una cosa che ha una piccola oscillazione da una parte e poi ritorna a essere piatta perciò si chiamano ondine wavelets e poi potete prendere le wavelets che vi piacciono qui questa è una wavelet usata da Shannon uno dei fondatori della teoria dell'informazione questa è la classica gaussiana ogni wavelet ha i suoi vantaggi queste sono wavelets usate da una matematica molto brava che si chiama Ingrid Dobecky che è questa qui sembra la versione un po' femminile di Bill Gates però è molto brava e servono le wavelets perché servono appunto a tradurre segnali servono a fare manipolazioni molto delle più bare servono a localizzare però il concetto delle wavelets è sempre quello che va da Hilbert quindi ricapitolando siamo passati dal calore siamo passati dal calore siamo passati alle serie di Fourier le serie di Fourier danno origine a sviluppi teorici però ci permettono anche di fare i sintetizzatori torniamo indietro ritorniamo nella parte astratta e facciamo le trasformate di Radon e quelle ci permettono di fare le TAC torniamo indietro e facciamo gli spazi Gilbert e questi poi si scopre che più strumenti matematici avete più potete descrivere la realtà questo è il vero senso della cosa la matematica è un linguaggio più è esteso più parole avete più potete descrivere la realtà e poi naturalmente i matematici tutte queste cose spesso se ne fregano la fanno perché gli piace e le opinioni possono essere le più varie per esempio sempre il solito Ardi diceva guarda a me non me ne è mai fregato niente di quello per cui serviva la matematica la faccio anzi sono addirittura molto contento che quello che faccio non serve a niente si occupava di teoria dei numeri poco dopo la teoria dei numeri sarebbe diventata lo strumento più usato per come dire fare la trasmissione di fare il codificato povero Ardi le ultime parole famose e infatti se Ardi la pensava così Arnold diceva tutto il contrario che la matematica è quella parte che la fisica in cui gli esperimenti contano poco quindi come vedete anche all'interno dei matematici se sono tutti d'accordo nel dire se una cosa è vera o falsa poi le opinioni filosofiche cambiano quando si passa alla matematica alla filosofia si cambia si va sempre un po' nel vago e infatti poi Caccioppoli che era un famoso matematico napoletano diceva che nella vita non aveva certezze ma solo probabilità quindi cose possono essere vere o false quello che è sicuro è che la matematica serve se ne sono accorti anche in paesi dove invece sono molto più come dire sono le persone sono molto più magari meno eleganti meno decadenti meno barocche però molto vanno più al sodo negli Stati Uniti credo che questo sia apparso sul Wall Street Journal non ricordo bene insomma diceva che qui si legge poco però se vedo bene diceva che tra i migliori mestieri al primo posto c'è il matematico al secondo posto c'è l'attuario al secondo posto c'è lo statistico poi c'è il biologo poi c'è l'ingegnere del software eccetera quindi perché? perché gli Stati Uniti sono un paese dove lo sviluppo tecnologico è tumultuoso e non c'è sviluppo tecnologico senza che ci siano molti matematici dietro a lavorarci purtroppo in paesi come il nostro sviluppo tecnologico è molto più lento pensiamo che i matematici servono solo a insegnare e infatti poi ci si ritrova dove ci si ritrova e direi che questo è tutto della parte introduttiva credo che forse siete sopravvissuti siete sopravvissuti vabbè io credo che mi fermerei qua adesso credo che ci sediamo e quindi devo subire un interrogatorio purtroppo sotto torchio da laurea tanto buonasera a tutti grazie al pubblico e al professor Mingione per questo interessantissimo intervento speriamo che ha rimarcato un fatto che trovo importantissimo e cioè quello che studiare la matematica è una disciplina così astratta in realtà delle ricadute anche tecnologiche importantissime come hai appena ricordato anche alla chiusura e imprevedibile e imprevedibile questo è il punto centrale quindi anche rimarcare questa idea che non possiamo decidere a priori quale problema astratto ci condurrà poi ad ottenere un'importante anche applicazione tecnologica questo è un fatto fondamentale fondamentale che estenderei anche un po' a tutta la ricerca di base in qualche maniera ogni volta che si che dirigisticamente si dice in che direzione andare poi qualcuno va da un'altra parte siamo apparsi e poi siamo apparsi poi qualcuno va da un'altra parte e ti fega insomma quindi bisogna stare sempre attenti la matematica è come un linguaggio o la sviluppi tutta insieme oppure arriverà la situazione per cui non hai parole esattamente che funzioni non possiamo decidere prima quello che scopriremo fondamentalmente ecco che mi sembra anche abbastanza ovvio ecco quindi visto che abbiamo anche studenti appunto tra il pubblico io vorrei intanto entrare subito nel vivo dell'intervista così poi lasciamo anche un po' di spazio alle domande del pubblico e appunto vorrei intanto chiederti questo è vero che la matematica ci hai fatto vedere che è così importante anche per le applicazioni tecnologiche però è anche vero che da studenti di liceo diciamo o di qualunque scuola superiore non si vede immediatamente questa dimensione né estetica come tu ricordavi nel tuo intervento e neanche poi di applicazioni in qualche maniera no? quindi bisogna fare un passaggio al livello superiore al limite però appunto dicevo intanto per te qual è stata appunto la molla che da studente in qualche modo ti ha spinto poi a scegliere proprio questo corso di studi e ovviamente immagino che avessi già sviluppato un certo talento e quindi vorrei anche chiederti in che modo si è manifestato e quando e poi vorrei anche chiederti se oggi appunto nel 2016 in questi anni per uno studente che appunto si troverà nei prossimi mesi a decidere il proprio percorso universitario perché se c'è ancora un motivo una stessa molla in qualche modo che potrebbe invitarlo a scegliere matematica è una disciplina che si presenta come dicevi tu in maniera anche molto astratta rispetto all'ingegneria che è più visibile per uno studente quindi ecco intanto comincerei da questo punto diciamo la mia esperienza non è poi alla fine differente allora qui bisogna capire prima di tutto che cosa intendiamo perché un conto è la cultura matematica generale che dovrebbero avere tutti e che al contrario di quello che si pensa molto meno complicata da avere uno è più si spaventa quindi non la studia ma in realtà poi specialmente se è insegnato in un certo modo si può capire e se uno poi la studia e poi è un conto un altro discorso è quello per il ragazzo che poi vuole studiare effettivamente matematica vuole farla nella vita diciamo in quest'ultimo caso un po' di talento devi avere un po' di inclinazione perché la matematica è comunque una disciplina molto astratta in quel caso però io non mi preoccupo troppo perché la matematica come si diceva in quel film su Caccioppoli non è tanto importante che ti piaccia è importante che tu piaccia a lei diciamo e quindi ti viene a cercare per esempio ognuno scorge brandelli di matematica da qualche parte e poi se gli piace se lo va a prendere nel mio caso mi ricordo che quando avevo 12-13 anni c'era mio padre che importò un vecchio computer un Commodore 64 a casa io iniziai a programmarlo i programmini davano soddisfazione perché erano come un giochino tu gli mettevi dentro le istruzioni quelli funzionavano giravano e quindi ti divertivi poi da lì ho approfondito ho cominciato a studiare qualche linguaggio di programmazione e poi a 15-16 anni programmavo in vari linguaggi diversi che oggi ho dimenticato ma forse non si usano neanche più e poi decisi di approfondire un po' le basi teoriche perché ero comunque attratto dagli aspetti più astratti e teorici e poi studiandoli così presi familiarità con varie cose in modo disordinato con la teoria delle grammatiche generative di Chomsky è un fatto di fatto è un fatto matematico però poi mi resi conto che alla base dell'informatica il vero succo c'era la matematica e quindi decisi di studiare matematica insomma non era una cosa quindi tu la vai a cercare questo per chi poi vuol fare il matematico poi il discorso è un po' diverso per la cultura generale di matematica che secondo me dovrebbero avere tutti e verso la quale c'è un timore secondo me un po' immotivato ecco più culturale che fattuale diciamo diciamo quindi perché ecco in questo caso in questo senso la matematica può e dovrebbe essere parte della cassetta un po' degli attrezzi degli strumenti di ogni cittadino anche non esperto c'è questa dimensione è stata c'è un dato di fatto oggi che è un dato di fatto anche preoccupante nel senso che noi viviamo in un mondo estremamente complesso noi abbiamo a che fare sempre di meno con oggetti con cose con cose che si toccano abbiamo a che fare con informazioni con concetti siamo in come dire in basi travolti dall'informazione se tu vuoi dominare un mondo così complesso così caotico devi essere in grado di mettere ordine nella tua testa cioè devi avere un pensiero logico e degli strumenti di sintesi che ti permettono di fare ordine nella tua testa altrimenti rimani confuso a tutti i livelli la matematica è lo strumento principe per fare questa cosa alcune volte basta guardare un grafico basta guardare una funzione e si possono risparmiare tante ore di aneddotica di suggestioni di racconti questo è importante che sia bagaglio di ognuno altrimenti altrimenti poi si paga poi si paga perché oggi viviamo in un mondo in cui la quantità di simboli da manipolare è aumentata e questi simboli possono essere manipolati soltanto se uno ha un certo bagaglio un toolbox di nozioni e sa come usarle diciamo una realtà più complessa richiede una persona un uomo più complesso certamente quindi la matematica riesce a fare sintesi più di qualsiasi altra disciplina quindi l'aspetto della sintesi ha anche la capacità di astrarre probabilmente dal dato che puoi vedere di fatto è come si manipolano i big data oggi un grande business odierno è quello di big data tra queste grandissime quantità di dati che sembrano apparentemente disordinati e poi usi degli algoritmi per metterci ordine adesso non è che ogni persona deve manipolare deve stare con relazioni dai big data però ognuno ha la sua quantità di big data quotidiani la vita ti prende con tutta questa quantità di cose da fare quindi è meglio che tu abbia un metodo anche mentale per farlo anche per orientarti quindi semplicemente quindi è un fatto culturale generale web sociale ecco e quindi è importante secondo te se ne studia abbastanza in Italia di matematica anche nella scuola no non se ne studia abbastanza perché non se ne studia abbastanza perché noi siamo un paese con una grande tradizione antiscientifica noi non crediamo che certe cose siano importanti crediamo che siano croze e questo ha degli effetti devastanti di fatto siamo secondo le classifiche il paese con il più alto numero con il più alto tasso di analfabetismo funzionale al mondo l'analfabetismo funzionale è quello che viene immediatamente prima dell'analfabetismo totale in cui non si riesce a capire una parola cos'è l'analfabetismo funzionale si riesce a decodificare il segno ma non il significato insomma questo è dovuto anche ad una capacità di manipolazione logica limitata e non si studia anche per grosse tradizioni antiscientifiche che abbiamo e abbiamo sempre avuto in Italia insomma credo che questo sia abbastanza chiaro e questo poi ci porta un ritardo a tutti i livelli quindi diciamo secondo te andrebbe introdotta più matematica nella scuola anche nei licei si studia troppo troppe materie ma diciamo uno dei più grandi dei più grandi per esempio dei più grandi punti da cui tu puoi vedere che c'è un ritardo dal punto di vista culturale è la sovraenfasi che si dà per esempio sul liceo classico che è un equivoco che viene scelto come scuola più formativa tra tutte le altre non si capisce perché studiare lingue antiche o fare versioni di greco debba essere più formativo che studiare matematica o cose attuali e quindi questo è un grosso equivoco perché più o meno quella è la scuola diciamo la maggior parte dei ragazzi non è che ci si iscrive perché ama il greco il latino ci si iscrive perché quella viene eletta come scuola d'eccellenza dall'upper class che è una cosa un po' sgradevole se vogliamo perché le scuole dovrebbero essere per tutti però di fatto è notevole la sovrainfratizzazione che mettiamo su alcune cose semplicemente perché non conosciamo le altre cioè non c'è nulla di più formativo che farsi un bel corso di geometria oclidea classica con cui si impara a ragionare non c'è niente di più non si capisce perché invece si debba fare l'altra cosa il risultato è che poi come dire le ragioni sono varie ecco ecco questa sottovalutazione tipicamente italiana direi della cultura della conoscenza scientifica cioè puoi tracciare un po' diciamo le ragioni fondamentali anche dell'ultimo secolo in modo da far capire da dove arriva ma questo non è molto facile perché qua siamo proprio alla radice di capire qual è la cultura diciamo della società italiana senza andare indietro al medioevo al sesto empirico però è chiaro che ci sono varie forze diciamo oscure che hanno giocato a favore di una cultura antiscientifica sicuramente la presenza della chiesa cattolica non ha una forte presenza politica non ha giovato qui siamo a Padova è impossibile non ricordare che l'Italia aveva il dominio la supremazia sulla conoscenza scientifica con Galileo e la sua scuola poi Galileo fu preso torturato inquisito la scuola fu debellata diciamo così fu smantellata perché ovviamente se tu vedi che il caposcuola viene torturato gli studenti vanno a studiare da qualcun altro e quindi la supremazia passò in vari paesi non al caso anglosassone in cui non c'era questa pressione poi le cose insomma si miscelano per molti secoli noi siamo stati indietro con la ricerca perché non ce la potevamo permettere perché noi non siamo stati mai uno Stato fare ricerca costa chiunque pensi che si possa fare ricerca essendo una singola azienda un singolo ente privato ha le idee molto confuse la ricerca è sempre stata una cosa di grossi investimenti pubblici e statali l'Italia è rimasta indietro perché noi avevamo piccoli staterelli che non si potevano permettere che so di imbastire grosse università grosse spedizioni quando la ricerca è cominciata a costare noi siamo andati giù noi siamo andati giù non l'abbiamo mai smesso no abbiamo no 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 ci sono stati alti e bassi ci sono stati alti e bassi nell'ottocento ci siamo un po' ripresi all'inizio si faceva anche ottima divulgazione all'inizio del novecento ci sono stati alcuni scontri culturali epocali tipo quelli tra il famoso matematico Federico Enriquez Giovanni Gentile diciamo Federico Enriquez sognava una scuola come la penso che debba essere fatta anch'io io non penso che debba esserci una scuola specifica prima di 18 anni bisognerebbe studiare poche cose formative e generali matematica storia italiano musica arte filosofia non specializzarsi immediatamente per specializzarsi su qualcosa come il greco o come programmi di informatica c'è l'università prima bisognerebbe essere generali e dare una formazione generale e questa battaglia fu persa a favore di Giovanni Gentile e ci ritroviamo alla scuola gentiliana anche Benedetto Croce non si risparmiò frasi irripetibili sulla matematica e sulla scienza che dimostravano sicuramente che in questo campo Croce parlava di cose di cui non aveva la minima idea infatti ho sempre ritenuto un personaggio enormemente sopravvalutato però sono matematico sono di parte insomma ci sono state varie varie tendenze le cose non vengono mai da una sola parte si ricombinano è un po' le spinte oscurantistiche dovute alla paura di che teorie scientifiche mettessero in dubbio verità teologiche un po' il fatto che insomma per fare ricerca serve uno stato e lo stato non ce l'hai o ce l'hai così piccolo che non ti riesci a pagare una spedizione in Antartica parlo del Settecento dell'Ottocento insomma si sono ricombinate varie cose tant'è che qui ci troviamo insomma ci troviamo con un po' di ritardo rispetto agli altri eppure è strano perché la matematica poi in Italia è stata sempre fatta bene la matematica comunque l'Italia è stata sempre considerata uno dei primi 4 o 5 paesi al mondo per la matematica e fino al prima diciamo che la seconda guerra mondiale cioè prima che le università stranuritensi prendessero il dominio perché quelle europee l'Europa si è autodistrutta è uno dei primi 3 diciamo dopo Germania e Francia questo è la ecco no volevo dire oltre a quello che hai detto tu anche una possiamo parlare anche di una certa miopia da questo punto di vista anche della classe politica e direi anche della classe imprenditoriale italiana rispetto all'importanza anche della ricerca in generale e quindi della matematica anche come apertura di nuove vie per l'innovazione e quindi per l'economia è un tutt'uno è un tutt'uno perché se sin da se sin da piccolo tu non hai non assorbi l'idea che certe cose sono importanti anche se non se ne vede l'applicabilità immediata poi non sei in grado di vedere questo nella vita e di trasformarlo in qualcosa di reale cioè noi abbiamo per esempio un'università che forma laureati e dottorandi e dottori di ricerca fortissimi che però sono impreparati per il mercato italiano ma vanno benissimo per quello fuori quindi siamo noi che siamo un po' più indietro ma questo è un po' un tutto un problema nella società italiana sicuramente abbiamo una classe imprenditoriale che non sta investendo molto in ricerca questa è la cosa che ci rende diversi dai nostri competitor purtroppo queste cose sono dei refrain che vanno avanti per secoli sono dei refrain culturali che a furia di ripeterli uno li sente alla fine del secolo scorso c'era un ministro che si chiamava Baccelli che diceva la ricerca non la dobbiamo fare perché non ce lo possiamo permettere ci sono cose più importanti dopo la seconda guerra mondiale De Gasperi in questo che è una persona più onesta di De Gasperi non si potrebbe pensare però diceva in queste condizioni dopo guerra la ricerca non ce la possiamo permettere dobbiamo pensare ad altro altrove in Germania e la Germania è un paese messo molto peggio di noi dopo guerra puntavano massimamente sugli investimenti in ricerca ultimamente accendo la televisione a casa di mia madre perché io la televisione non ce l'ho sento un noto economista che esce spesso in televisione scrive sui giornali che dice che l'Italia non deve puntare sulla tecnologia ma deve puntare sul turismo che è una sciocchezza colossale perché siamo in ritardo non ce la facciamo più questi messaggi passano in televisione adesso la cosa grave non è che questo signore che si chiama Zingales dica questa cosa perché a chiunque anche le persone più intelligenti può scappare la cosa però che questi messaggi passino senza che ci sia come dire una sollevazione popolare avesse detto questa cosa in Gran Bretagna in Germania in Francia ci sarebbe stata una offesa alla dignità nazionale invece qui passano queste cose forse anche un ritornello è un ritornello siamo abituati a sentire cioè io spesso per esempio per esempio spesso ogni tanto ho interazione con matematici coreani la Corea è un paese molto più arretrato di noi scientificamente oggi fra vent'anni saranno più avanti negli anni settanta era un paese credo l'economia agricola perché ora sono diventati più tecnologici di noi e questo ci dice che qualsiasi momento è buono per cominciare la Finlandia 70-80 la Finlandia credo che noi la vediamo già nella mitologia dei paesi scandinavi quindi avanzati importanti eccetera 70-80 anni fa era un paese agricolo negli anni 50 c'erano due dottori di ricerca in tutta la Finlandia in matematica e che succede? si è puntato sulla tecnologia e oggi ci hanno sorpassato una storia cardina è quella della Nokia la Nokia non tutti sanno che negli anni 20 era una falegnameria perché che vuoi fare in Finlandia se non fare del legno all'inizio del secolo hanno tutto quel legno poi qualcuno ha capito che con il legno forse non andavi così avanti e negli anni 50 si sono riconvertiti con la chimica per cui se tu vai nei mercatini di Helsinki trovi ancora un sacco di bellissimi stivali di gomma targati Nokia e dice ma come non fai cellulari no prima faceva gomma poi negli anni 60 la Nokia si è riconvertita sull'elettronica e ha massicciamente investito in ricerca e indottori di ricerca cioè questa flessibilità ci manca anche questa idea di capire che poi le cose che non si vedono sono importanti come un po' il trucco del prestigiatore quello ti sega la signora in due però la cosa importante rimarchevole sta dietro è quella che non vedi è tutto l'armamentario che ti fa veramente credere che quello seghi la signora in due e invece noi negli anni 60 sdendevamo fondamentalmente l'azienda Olivetti il sogno di Adriano Olivetti se uno guarda l'Olivetti e uno guarda anche i negozi che avevano vede tutte le idee della Apple non si capì riprendere però magari è utile ricordarlo che mentre la Finlandia passava dal legno dagli stivali la Nokia io non sapevo questa storia della Nokia però siccome vado ogni anno in Finlandia molte volte perché ho dei collaboratori finlandesi in un mercatino vedi degli stivali targati Nokia rimasi un po' confuso e quindi mi feci raccontare la storia della Nokia senti invece tornando appunto alla matematica ci puoi parlare un po' anche del secolo scorso è stato un secolo per certi versi anche molto importante e glorioso per la matematica italiana no? Sì la matematica italiana si è sempre difesa si è sempre difesa fino alla prima mediale del secolo scorso è stata i primi paesi abbiamo avuto delle ottime scuole prima all'inizio del secolo uno dei centri più importanti è stata la scuola normale di Pisa qui un po' si vede come le cose funzionano poi a un certo punto c'è stato Napoli dove c'era appunto Renato Caccioppoli poi Napoli decadde grazie alla gestione poco illuminata di un barone locale un tipo che pervegne al potere perché è alla morte di Caccioppoli e poi assistemmo alla scuola normale di Pisa che grazie a una persona che si chiamava Alessandro Faedo che era un ottimo matematico che però aveva l'idea di prendere i migliori matematici che poteva trovare e metterli lì quindi ci fu De Giorgi che è quotato come il miglior matematico italiano degli ultimi due secoli probabilmente da qualcuno e uno dei maggiori esperti di teoria forse il maggior contributore sull'equazione derivate parziali che è il secolo scorso a livello mondiale ci fu un bombiero insomma si creò a Pisa un dipartimento che poteva fare concorrenza a Princeton Parigi eccetera e negli ultimi anni diciamo abbiamo fatto fatica a mantenere le posizioni perché stiamo smantellando la ricerca in Italia e quindi abbiamo 600 giovani matematici all'estero all'estero prendono non solo quelli bravi prendono tutti perché sono tutti fuori io ho più volte provato a far rientrare qualcuno non ci sono quasi mai riuscito anzi mi ricordo che avevamo assunto a Parma qualcuno che poi è andato a insegnare a Basilea qualcuno l'unica persona che sono riuscito a far rientrare è uno molto bravo che aveva avuto un'offerta da un'università statunitense importante però sono riuscito a farlo rientrare per motivi affettivi familiari ma non perché si riesca quando dici riuscire a farlo tornare che vuol dire che ha trovato una posizione assumerlo 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 quindi la matematica quindi un elemento anche del sottofinanziamento alla ricerca direi oltre che la ricaduta tecnologica l'innovazione che comunque è la via di uscita dalla crisi questo forse in Italia si fa fatica a capirlo ma la via l'innovazione viene dalla ricerca non c'è niente da fare si viene dalla ricerca viene da un innalzamento globale del livello delle persone che lavorano cioè più persone ci sono con un livello di strutturazione con una cultura scientifica e più sono le possibilità di sviluppo tu devi sviluppare per sviluppare devi avere un toolbox personale che ti permetta di sviluppare cose di alto livello se non ce l'hai è la fine ma questo a livello come dire diciamo che le aziende ma è anche a livello di società che la matematica è importante la matematica ti protegge dai fenomeni di ipnosi di massa di ipnosi pseudoscientifica di massa infatti la domanda che volevo fare la matematica sei nelle mani di qualsiasi venditore di fumo oggi perché tutto avviene a livello simbolico perché voglio dire possiamo anche parlare di una funzione abbiamo visto le ricadute tecnologiche ma possiamo anche parlare di funzione sociale della matematica in qualche modo e intendo per esempio anche come strumento per mantenere aperti e vivi gli spazi di democrazia che abbiamo ma che non dobbiamo mai dare per scontato che restino così come sono di fatto sì e al contrario diciamo vista da un altro punto di vista può in qualche modo la matematica prestarsi anche a un uso tra virgolette ideologico per legittimare magari una teoria un gruppo anche di potere che in qualche modo può imporsi grazie a un uso direi potremmo dire distorto quindi da un lato come strumento di democrazia e dall'altro come strumento per esagerare chiaramente dico di oppressione o comunque in qualche modo di distorsione di massa direi sì assolutamente perché oggi per esempio molte è un po' quello che dicevo prima c'è un principio di autorità dinanzi al quale tu non puoi non hai gli strumenti intellettuali a cui non puoi opporti perché non hai gli strumenti intellettuali per opporti se io ti vengo a raccontare che gli asini volano tu capisci bene che gli asini non volano se io ti vengo a raccontare che certe cose succedono con un grafico o con un modello rinormalizzato dicendoti che guarda la scienza ti dice questo tu non hai neanche gli strumenti per analizzarlo quella cosa quindi ti si può raccontare qualsiasi cosa e tu ci caschi ti si può raccontare che non so uno scandalo finanziario di qualche anno fa era quello che è la Parmalat che obbligazioni al 6% sono sicure secondo non si è avvenuto al valutare il numero non sarei mai sicuro ma questo può avvenire a tutti i livelli per esempio c'è un limite la matematica pone un limite al principio dell'autorità pseudo scientifico cioè questo è la conoscenza della matematica io vengo a convincerti di una cosa che è falsa ma lo faccio ti racconto una favola usando numeri cioè ti racconto ti faccio quel discorso che facevo prima ti faccio un modello matematico che non aderisce alla realtà ma che descrive una realtà non che è quella reale ma che è ideologicamente predeterminata e siccome tu non hai la forza intellettuale di opporti a questo modello tu te lo bevi e quindi ma questo può avvenire a qualsiasi livello e quindi torniamo all'importanza di studiare la matematica anche per non esperti per capire il mondo oltre le applicazioni immediate di sicuro una cosa diciamo questo può avvenire a tutti i livelli infatti credo che adesso abbiamo quasi esaurito insomma il tempo che c'era però potrei raccontarti questa cosa questo è un raccontino molto simpatico cioè non è vero che solo l'uomo della cioè la matematica ti aiuta anche non so a conservare il patrimonio questo è accaduto per esempio con quelli che hanno messo i soldi nelle obbligazioni della Parmalat però può avvenire a qualsiasi livello una storia molto interessante era raccontata da un matematico che lavora a New York che si chiama Marco Avellaneda Avellaneda era un famoso matematico e fisico matematico negli anni 70 lavorava sulla teoria dell'omogeneizzazione poi cambiò idea e si mise a fare modelli anche devo dire molto buoni per descrivere l'andamento dei mercati finanziari modelli stocastici molto delicati in cui si riusciva a limare un pochino e quindi se tu li utilizzavi potevi fare dei rendimenti migliori lavorava per un fondo con un nuovo modello in mano vuole espandersi e quindi espandere il fondo e trovare degli investitori istituzionali allora si presenta a Ginevra da New York va a Ginevra e si va a presentare ad un board di investitori istituzionali che gli presenta queste belle formule gli fa vedere l'evidenza per cui si riesce a fare un pochino meglio non tanto meglio ma un pochino meglio si riesce a fare quindi gli propone questa cosa questi un po' perché non conoscono le formule un po' perché non conoscono lui gli dicono no, non ci interessa poi dopo qualcuno lo avvicina e gli dice guarda tu sei simpatico con le tue formulette però noi vogliamo gente gente con grosso track record gente importante gente che non ci ha mai deluso guarda questo ci fa delle cose da anni non ci delude mai sovraperforma i mercati guarda qui noi investiamo in Barry Madoff adesso infatti Amelia Neda scrive io per anni prima che poi la crisi finanziaria facesse scoprire lo schema Ponzi per cui Madoff era un truffatore io non ci dormivo la notte perché dicevo tutto quello che sappiamo fare ci porta a fare un po' meglio perché in realtà è sempre così questo come fa a fare così meglio in realtà poi dopo si è capito però è interessante vedere come anche grosse persone a grossi livelli sono rimasti vittime di queste truffe perché perché non avevano l'attitudine o tecnologico o matematica per esempio per capire la familiarità per capire che se tu sei meglio degli altri puoi essere un filino meglio degli altri non puoi doppiare gli altri se tu sei il record non so se tu fai 100 metri in 9 secondi 8 il nuovo record sarà 9 secondi e 7 ma se tu fai 4 c'è qualcosa che non va insomma però se tu non hai familiarità con come dire con tutto il mondo e con tutto l'environment tecnologico allora puoi avere problemi puoi avere problemi a tutti i livelli questo è importante per cui capire avere maggiore familiarità con la tecnologia con la matematica ti aiuta a capire il mondo ti aiuta a non farti far fesso e con la logica e con la logica e ti aiuta anche in questi casi a salvare il patrimonio per esempio questo mi sembra un ottimo motivo per studiare la matematica però fu divertente questa storia quando l'ho letta mi ha colpito molto perché il poverino non ci dormiva la notte ve lo dire che anche il matematico è stato in quel caso abbastanza ingenuo perché lui pensava appunto al suo mondo matematico perfetto non gli è venuto in mente che esiste anche poi il mondo diciamo degli imbrogli però un po' più per la terra degli imbrogli va bene io direi che abbiamo annoiato la sufficienza la sufficienza il pubblico stasera un po' di spazio appunto per le domande sì ricordiamo che qui all'auditorium ci sono due nostre hostess un microfono a destra un microfono a sinistra per raccogliere le domande si va per alzata di mano quindi direi che ne raccogliamo un po' ce n'è già qui una in prima fila chiedo ai nostri relatori ne raccogliamo un po' e dopo rispondiamo cosa dite? professore raccogliamo un po' di domande e dopo rispondiamo non sente senti? sì sì sento le mie orecchie non sono tappate dicevano se preferisci che raccogliamo un po' di domande e rispondiamo una a una magari anche una alla volta va bene prima domanda qui di fronte ciao Giuseppe ciao nel tuo nell'articolo che hai fatto su De Giorgi e Nash su Focus che adesso è in edicola non è un articolo mio è un'intervista sì è un'intervista a te è vero e a un certo punto accendi che nella diversità nel risolvere quel famoso problema tra De Giorgi e John Nash influiva il dialogo il rapporto diciamo tra Caccioppoli e De Giorgi potresti spiegare qualcosa o è troppo complicato? no non è complicato è che diciamo De Giorgi in questa famosa risoluzione di questo uno dei più famosi problemi forse il più famoso problema dell'epoca sull'equazione delle derivate parziali intuì immediatamente la soluzione battendo di molto tempo John Nash il famoso quello di A Beautiful Mind infatti questo poi precipitò John Nash in un baratro di disperazione perché perché aveva molto discusso con Renato Caccioppoli sviluppando idee che Caccioppoli che era all'ultimo stadio purtroppo morì drammaticamente si suicidò era depresso alcolizzato nell'ultimo stadio della sua vita riusciva ancora ad avere idee però non riusciva ad avere la forza tecnica per svilupparle quindi lui le prese in eredità e poi siccome a sua volta De Giorgi era un genio sviluppò queste cose e riuscì a battere John Nash questo tra l'altro colgo l'occasione per dirlo questa è una cosa molto importante è importante mantenere la tradizione e la conoscenza in Italia perché De Giorgi potrebbe arrivare a questo perché parlò con Caccioppoli Caccioppoli era in Italia De Giorgi era in Italia se uno fosse stato all'estero come capita oggi questa cosa non sarebbe avvenuta e chiunque pensa che poi a un certo punto non si perda nulla lasciando le persone fuori e poi facendo ritornare e considerando le tradizioni scientifiche alle università come squadre di calcio da rifondare immediatamente con i soldi non ha capito nulla altre domande dal pubblico non siate timidi avete un professore di questo calibro eccolo buonasera professore a proposito di questo argomento cos'è che è la spinta a restare e non ad essere attirato dalle molteplici offerte che avrà sicuramente avuto dall'estero allora guarda guardi io ho ricevuto varie offerte soprattutto quando ero più giovane dai 34 ai 40 42 anni adesso me ne fanno di meno anche perché sanno che poi vengo qui però in realtà io sono rimasto perché sono uno degli ultimi fortunati che è potuto rimanere a condizioni decenti nel senso che io ho vinto l'ultimo concorso ho finito la carriera a 32-33 anni ero diventato ordinario e quindi era ancora una condizione decente certo quando sono rimasto ho deciso di rimanere qui poi non avrei mai pensato che si fosse arrivati alla situazione odierna dove hanno azzerato tutto che effettivamente è una situazione un po' preoccupante le persone che oggi vanno via vanno via perché abbiamo azzerato e chiuso tutte le posizioni e quindi non essendoci più niente vanno via e sarei andato anch'io via perché se non ci fossero stati i posti cioè se quel posto non ci fosse stato io oggi sarei fuori non sarei qui questo è l'ultimo è l'unico vero motivo per cui per cui eh? i fondi sono stati ora azzerati e vabbè vediamo di fatto io viaggio moltissimo perché mi pagano da fuori Italia mi invitano sempre finché risulterò interessante farò qualcosa se no mi metterò a vegetare eccoci qui di fronte qui 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 seconda fila professore eccoci sta arrivando grazie eh professore se può fare un approfondimento sia pure molto sintetico dal rapporto matematica scienze sociali perché nell'ultimo mezzo secolo la matematica ha guidato le scienze sociali in particolare l'egemonia dell'economia è legata proprio alla sua maggiore capacità di assimilare le tecniche matematiche però c'è adesso qualcuno che dice la matematica ha sopraffatto la matematica dice qualcuno ha sopraffatto la realtà no è il modello che viene eh come dire perseguito per se stesso se la realtà non si è adegua è sbagliata alla realtà ecco come vede questa questione io non è che sono un grande esperto però di fatto uno deve stare sempre molto attento quando fa un modello matematico i modelli matematici arrivano dalla realtà la realtà uno la traduce in un modello matematico poi dimostra delle cose che sono vere per la matematica e poi deve verificare con la verifica sperimentale che quelle cose sono effettivamente vere questo ultimo passo spesso mi sembra un po' fluttuante mi sembra un po' fluttuante d'altra parte bisogna anche dire che in matematica quello che noi riusciamo a modellare bene sono situazioni molto circoscritte e controllabili in alcune scienze sociali vedo dei modelli io per carità non sono un esperto però vedo dei modelli di situazioni enormemente complesse fatte con modelli molto molto semplici cioè noi non riusciamo a risolvere le equazioni di Navier-Stokes che come dire regolano il moto di un fluido e poi vedo modelli molto più semplici per cose enormemente più complicate e la cosa mi ha sempre insospettito devo dire quindi però bisogna sempre stare attenti quando uno fa un modello matematico dimostrare un teorema di matematica non vuol dire dimostrare una cosa che accade nella realtà vuol dire avere un'idea di ciò che accadrà nella realtà un'idea molto forte se il modello è fatto bene molto debole se il modello è fatto male sicuramente una cosa posso essere abbastanza sicuro è che la matematica non riesce a modellare bene situazioni estremamente complesse solo situazioni controllate infatti per esempio credo che ci siano molti ottimi modelli stocastici per i mercati finanziari che però vanno bene finché non andiamo in modelli in situazioni estreme come quelle di crisi eccetera lì smettono un po' di valere eccetera però diciamo nelle scienze sociali spesso vedo modelli molto molto matematicamente diciamo semplici modellare cose molto complicate allora lì bisogna andarci un po' con i piedi di pion però sicuramente la matematica non va mai abbandonata ecco questo è sicuramente la verifica più forte quando i modelli sono fatti bene qualcun altro? sì lei prima citava le attività sul big data che occupano i matematici io mi occupo di gestire gruppi di lavoro che si occupano di big data nell'informatica di che? big data big data o big data ah big data big data lo sei dito bene quindi quando attrezziamo questi gruppi di lavoro assumiamo neolaureati informatici fisici matematici cosa accade? che gli informatici facciamo fatica a trovarli perché sono tutti straoccupati neolaureati matematici abbiamo un sacco di curriculum 110 110 lode dobbiamo scegliere quindi ci sono sostanzialmente giovani laureati che scelgono la matematica per passione però mica tutte le aziende fanno big data in Italia oppure istituti finanziari che magari li assumono per fare modelli finanziari allora al di là di cominciare a investire nella formazione diceva un linguaggio che si parla nel tempo oggi ne abbiamo di giovani matematici probabilmente potenzialmente bravi dal suo punto di vista come possiamo metterli in circolo visto che gli informatici si trovano in pieghi e loro no mettere in circolo matematici ma la cosa è abbastanza semplice come ha detto lei se cioè supponiamo di stare in una situazione estrema in cui l'economia del paese si basa sull'agricoltura noi questi matematici non li mettiamo mai in circolo queste robe se non abbiamo un sistema imprenditoriale o di aziende che si muove a un certo livello effettivamente noi di laureati non ci servono quindi potremmo dire di non farne però poi la conseguenza è che fra 20 anni andiamo tutti a zappare quindi è un problema risolvibile aumentando la coscienza sociale e la cultura scientifica a tutti i livelli che la società e quindi anche in quello imprenditoriale cioè se noi non pensiamo un po' come ha fatto la Nokia ci guardiamo guardiamo fuori Italia e pensiamo che è il momento di investire in tecnologia perché lì si deve andare siamo liberissimi di farlo come siamo liberissimi di pagarne le conseguenze ovviamente se appunto se questo fosse un paese di economia totalmente agricola qui non servirebbe nessun laureato però questo poi non so dove ci porta non ci porta su strade molto simpatiche probabilmente la domanda che fa lei è ovvia come dire come li mettiamo in circolo se non servono vanno fuori di fatto noi purtroppo esportiamo troppi laureati perché i nostri laureati sono molto richiesti fuori non abbastanza richiesti in Italia però questo è un problema nostro il problema non è che ne abbiamo troppi perché noi abbiamo troppo pochi troppo poche persone si occupano di matematica il problema è che siamo una società troppo poco scientifica troppo poco tecnologica e questo si paga tra l'altro li formiamo e poi li esportiamo fermiamo per la gioia per la gioia degli altri però la risposta non può essere dire che non ci servono la risposta è andare avanti non andare indietro cioè anche il mondo del lavoro che deve essere pronto sì diciamo c'è una sorta di a un certo punto uno deve andare avanti cioè se tutto il mondo va nella direzione di un fortissimo sviluppo tecnologico ci andiamo anche noi o rimaniamo indietro che può essere per carità nessuno ce lo vieta se ci piace andare a zappare la terra se ci piace non so fare gestire uno chalet una spiaggia va benissimo l'importante che uno lo sappia dove sta andando anche questa è una bella provocazione devo dire c'è un'ultima domanda eccola qui scusi ma secondo lei quali sono i settori in cui i matematici possono trovare l'impiego ad esempio adesso si parla molto della robotica come e quindi ma quali altri settori in cui nell'industria perché i laureati che vanno all'estero sono di tutti i tipi anche gli architetti non trovano l'impiego in Italia voglio dire ma questo è generale tutti quelli che conosco sono tutti all'estero ma nel campo della matematica quali sono i settori in cui potrebbero trovare un impiego? essenzialmente tutti questo è il punto perché la matematica dà una formazione teorica una forma mentis che permette di riconvertirsi rapidamente su qualsiasi tipo di settore infatti negli Stati Uniti quello che è il matematico era il mestiere più richiesto cioè dappertutto l'informatica non è una matematica l'informatica è una sottobranca della matematica anche storicamente i matematici hanno questa caratteristica di essere enormemente più diciamo di avere una fortissima capacità di manipolazione simbolica e questo all'estero è apprezzato perché oggi tutto va nella direzione di una fortissima tutta una serie di servizi si basano sulla manipolazione simbolica non è più la manipolazione diciamo quella con le mani questa è una cosa che io discuto spesso nelle facoltà di ingegneria noi purtroppo devo dire che le facoltà di ingegneria dovrebbero iniettare più matematica e devo dire che sono parzialmente un po' dovrebbero rendersi conto che bisogna mettere più matematica e più manipolazione simbolica infatti adesso si cominciano a fondare dei corsi che si chiamano di ingegneria matematica questa è una novità ma per esempio cioè come dire se uno pensa alle aziende che sono state più innovative negli ultimi anni o quelle che insomma hanno fatto più soldi Google Facebook sono tutte aziende nate da studenti che studiavano delle cose astratte di matematica se uno le va a proporre in molte facoltà anche di ingegneria italiane molti professori di ingegneria ti dicono non serve perché io voglio quello che magari serve all'imprenditore qui vicino sono a Parma per esempio che insacca il salame per dire o che inscatola il pomodoro però poi alla fine i passi avanti si fanno i salti diciamo i salti quantici economici si fanno in altri paesi non si fanno più qui a beneficio a beneficio del nostro pubblico vorrei ricordare che una mente matematica applicata al giornalismo è anche qui di fronte a noi voglio dire abbiamo anche matematici che possono convertirsi insomma in qualcosa che sia magari più divulgativo che ci sia veramente bisogno se c'è veramente l'ultimissima domanda eccola qui di fronte qui di fronte al signore vestito in blu e dopo chiudiamo perché si è fatta anche una certa ora si è fatta ora faccio una domanda di tutt'altro tipo teorico no niente vorrei sapere solo se il concetto di zero è infinito che il lotempore ricordo a scuola discusso inutilmente per è rimasto sempre lì si è mosso qualcosa oppure no cioè guardi è difficile rispondere perché io non so non ero testimone di queste discussioni per me zero è quello degli assiomi di perano zero esiste ogni numero è successivo e si parte da lì ma una cosa che sconsiglio di fare veramente è farsi troppe domande filosofiche all'inizio questa è veramente una delle cose peggiori che si possono fare per la matematica la matematica è una cosa che si impara facendo risolvendo problemi imparando ma non facendo discussioni epistemologiche sui fondamenti non subito quelle proprio fanno scappare le persone probabilmente non c'è una risposta evidentemente ma voglio dire siccome tutte le formule o quasi tutte ci sono delle tendenze all'infinito no tutte quelle che convergono anche quelle che abbiamo visto stasera tutte le serie che convergono non c'è nessuna tendenza più infinita poi si parla delle fasce evidentemente utili delle fasce che riusciamo a gestire ma non si è mai tentato di andare avanti o indietro no di andare oltre non ho esattamente capito andare oltre cosa allora per esempio lei dice l'esempio che ha fatto prima tutti i raggi per l'attac tutti i raggi passano però chiaramente non possono essere infiniti sono come si fa a passare questo discorso è applicato in tantissime altre cose come modelli matematici vorrei capire se questo tipo di situazione è una costante nei secoli nei decenni o se c'è matematicamente qualche tentativo di no quello che quello che sta pensando lei è questo lei per esempio stavrà pensando all'attac per esempio allora è ovvio che se io è ovvio che in quel caso la teoria che cosa suggerisce suggerisce che tu devi analizzare tutte le rette tutte le rette sono infinite quindi questo non è un problema trattabile allora si fa quella che si chiama approssimazione numerica cioè si prende un numero sufficientemente alto di rette e da lì si passa con un sofisticato algoritmo di ricostruzione ad avere un'approssimazione della realtà sia di quella reale che quella matematica cioè i concetti di infinito sono sempre dei concetti che noi introduciamo e che nelle applicazioni poi approssimiamo ovviamente è chiaro che io per ricostruire un oggetto non posso analizzare tutte le rette perché le rette sono infinite e nessun computer né quello di oggi né quello di domani né quello di Star Trek o Star Wars ce la fa però posso prendere un numero molto alto di rette e ricostruire ma questo si fa con altre branche della matematica che hanno a che fare con problemi inversi approssimazione numerica eccetera insomma sono cose molto delicate però sicuramente il concetto di infinito è un concetto ideale che è molto comodo per gestire delle situazioni reali cui ci si può avvicinare diciamo sono concetti ideali questi nella realtà ci si può solo avere un'approssimazione l'esempio dell'attacca è chiaro ovvio riusciamo c'è qualche altra curiosità è interessante comunque che uno degli incontri più dibattuti a cui ho assistito di segna via sia un incontro sulla matematica direi che la sfida che abbiamo lanciato questa sera è stata decisamente vinta la matematica è stata sempre odiata da tutti i regimi il regime greco dei colonnelli proibiva lo studio della matematica moderna lo proibiva perché la matematica moderna introduceva un certo tipo di assiomatica che poteva potenzialmente essere lontana dalla realtà insomma quindi siamo tutti rivoluzionari un pochino questa sera l'ultimissima domanda per chiudere con una battuta se ce la facciamo abbiamo avuto un pubblico decisamente eterogeneo questa sera di varie età probabilmente anche di varia estrazione e dico proprio in ambito in ambito culturale c'è un'età per cui una persona ideale per cui una persona possa interessarsi alla matematica sono già tutti un po' over o c'è ancora speranza dipende se uno vuol fare il matematico professionista e dimostrare i treoremi forse se parte dai 70 anni è un po' tardi però non c'è nessuna età alla quale non si possa iniziare a godersi un po' di matematica poi il livello uno se lo sceglie diciamo possiamo diventare ancora tutti omini matematici non vedo differenza tra la matematica tra leggersi la matematica e leggersi un romanzo o leggersi altre cose questo è un preconcetto ce la facciamo allora dare un consiglio di lettura al nostro pubblico questa sera uff vabbè due libri erano lì giusto per appassionarsi però il problema della matematica è comunque quello che ho detto prima cioè che la matematica uno per farla veramente dovrebbe studiarsela e quindi ci sono per esempio c'è un libro che si chiama di Curranter Robbins che è molto bello che cos'è la matematica per Bollati Borghieri credo è un buon compromesso tra divulgazione e poi matematica reale cioè leggere un libro molti libri di divulgazione sono libri in cui il lettore ha l'impressione di stare leggendo matematica ma in realtà non sta leggendo matematica sta leggendo storie sulla matematica che è una cosa un po' diversa certamente se uno può leggere e imparare un po' di matematica per le formule ci deve passare prima o poi se no rimane in questo in questo limbo pseudo matematico per i più coraggiosi insomma per i più coraggiosi va bene direi che è ora di chiudere ringraziamo il professor Mingione e la dottoressa Laura Margerotti io vi ricordo che la prossima il prossimo appuntamento con segnavie quindi il prossimo segnavie è il 18 ottobre con il professor Manfred Spitzer parleremo di una cosa veramente interessante neuroscienza e la demenza digitale che credo ci riguardi anche in questo caso davvero da vicino ovvero quella che potrebbe essere la patologia della vita moderna quindi l'appuntamento al 18 ottobre a tutti quanti grazie per essere stati con noi grazie senti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti